Novità in Consiglio Comunale a Pistoia, i due gruppi Forza Italia che conta quattro consiglieri e Amo Pistoia che ne conta due, si sono uniti e hanno dato vita ad un unico gruppo di centro che sia nel nome sia nel simbolo intende mantenere l'identità di entrambi gli schieramenti. Si chiamerà infatti Forza Italia Amo Pistoia Civica e il capogruppo sarà il consigliere forzista Jacopo Vojola. Quali saranno le vostre priorità? Le questioni che ci interessano moltissimo sono quelle del degrado urbano e del Viale Adua. Il Viale Adua è un'importante arteria della città che anche attraverso il Pumse è emerso che è una delle più pericolose sia per i pedoni che per l'incidentalità alta che ha e quindi intervenire sul Viale Adua al più presto per migliorarlo e renderlo sicuramente più fruibile. L'idea è anche quella di creare una forza politica di centro? Sì certo, noi siamo sempre stati una forza politica di centro, rafforziamo questa posizione facendo un gruppo di sei consiglieri comunali, quindi consiglieri che potranno essere nel nostro auspicio più incisivi nel sostegno leale a Alessandro Tomasi, alla Giunta e ai nostri tre assessori di riferimento e quindi a tutto il centro-destra. Per noi è stato naturale unirsi a questo gruppo con cui condividiamo le idee liberali e democratiche proprio fin dal 2017 con cui c'è sempre stato armonia con tutti i consiglieri e riteniamo che sia un'ottima occasione per rafforzare entrambi i gruppi e per lavorare sempre al meglio nell'interesse della nostra città. Pistoria è sempre stato un laboratorio per il centro-destra, lo siamo stati nel 2017 con l'avvento del centro-destra che amministra questo territorio e lo continuiamo a fare con l'accorpamento a Forza Italia di movimenti civici che sono affini a noi.